Il Museo Civico di Cuneo Il Museo Civico di Cuneo Con la soppressione degli ordini religiosi per volere di Napoleone nel 1802, la Chiesa fu chiusa al culto e completamente privata di ogni bene. Dopo alterne vicende passò alla proprietà comunale che negli anni Ottanta decise di allestire al suo interno il Museo Civico. Lo spazio della Chiesa è destinato ad importanti mostre, concerti ed eventi culturali.